Allora, perché siamo qui oggi? Siamo qui a manifestare per un furto di democrazia. Lo strumento per eccellenza che è il voto popolare è stato negato su una legge mostruosa come la legge Fornero. È triste dover vedere che in America il democratico Obama chiede l'aumento della tassazione sui trust e sulle grandi ricchezze e qui da noi invece i nostri democratici fanno la cassa con i pensionati e i poveretti.